oggi guardiamo assieme come insegnare i cani a non buttarsi giù dalla macchina appena aperto il baule e lo facciamo partendo dall'inizio in questa scena ad esempio vediamo che intanto chiedo ai cani di salire quello che vedete fare avanti indietro è il maschio che ha paura della macchina non ci sale volentieri quindi tentenna un po ma noi insistiamo ed ecco che alla fine decidi di rimanere qua vedete subito vi faccio notare subito una cosa ferma allora vedete che mi sono messa con le gambe aperte ecco questa posizione non è casuale lo faccio per ampliare lo spazio del mio corpo questo perché come vedete vedete anche questi piccoli passetti avanti mi servono per mantenere i cani dentro come vi dicevo il maschio non ama stare in macchina quindi quando mi sposto cerca di scendere ed ecco che tre volte che mi pensa di scendere io mi faccio avanti quando poi finalmente rimangono fermi gli premio si potrebbe non premiare in questa situazione sì certo io lo faccio per andare a ridurre lo stress che come vi dicevo comunque va a diventare tale in un momento stesso in cui io avanzando in realtà faccio una sorta di minaccia nei confronti dei miei cani ok quindi uso il mio corpo per impedire a loro il movimento ripeto questa cosa due tre volte giusto per dirgli che cosa mi serve fa cosa mi serve che loro facciano prima quindi quello che mi serve loro facciano è stare dentro gli spiego prima cosa vogliono che facciano loro adesso vedete che comincio a chiudere il baule ok quindi io prima di fare l'esercizio vero e proprio spiego ai cani cosa voglio che facciano quindi prima gli ho detto voi dovete rimanere dentro anche quando mi allontano poi velocemente abbasso e alzo il volume è il volume il baule quindi e poi pian piano mi allontano l'idea è che loro non possono comunque uscire finché non avranno il mio comando per cui di nuovo ripeto abbassi il baule tiri su loro devono stare fermi vedete che lui cerca di scendere io subito mi sposto di lato ingombrando col corpo lo spazio davanti a lui e apro anche le mani per comunque dire anche quell'altra sì però devi stare dentro anche tu di nuovo chiudo lei va tranquillamente davanti riapro sono già con le mani aperte giusto per ribadire che devono stare fermi e loro stanno lì come il maschio avanza io avanzo a mia volta quindi tutte le volte uso il mio corpo per gestire i loro movimenti ricordati che quando tu vai verso il cane il cane arretra e in questo momento invece prima uno e poi l'altro dato il permesso a tutti e due di uscire il concetto è voi potete uscire solo quando io vi dico che potete uscire provaci e sappimi dire ciao